Sono 19.148 i candidati che hanno affrontato oggi la prima prova della maturità in Calabria. Oltre un terzo studiano nella provincia di Cosenza, a seguire gli studenti di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valencia. Poco più di 500, invece, le commissioni esaminatrici, i ragazzi hanno potuto scegliere tra cinque tipologie di elaborato. L'analisi del testo di un brano di letteratura, il saggio breve, l'articolo, il tema storico e infine quello d'attualità. Come era stato ampiamente previsto da molti, per la traccia di letteratura è stato proposto ai maturandi l'appena scomparso Umberto Eco, mentre per sviluppare il saggio o l'articolo di giornale, gli studenti hanno potuto attingere al rapporto padre-figlio, l'avventura dell'uomo nello spazio, il prodotto interno lordo, il valore del paesaggio. Il Ministero ha poi proposto per il tema storico il voto delle donne e il valore del confine per quello di attualità. Tiziana Bagnato per la CNews24.